Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Hotel Adriano di Introduzione di prodotto appena montato sulla cima di una pasta di carta dura che viene tagliato a laser con delicatezza, posso fare un simpatico senza la necessità di dipingere in miniatura? Ideot 148 Poruco, Saporia di 144, Allegato Il set comprende, Hotel Adriano, Ideot Poruco, Saporia L65 XP 65 X 48 mm, Saporia Dimensioni del corpo principale, Hotel Adriano Ideot va a 109 X di 224 X 93 mm Di Poruco va a 63 X di 52 X 51 mm Destinazione genere Ragazzo 1992 2 cavalli GNN Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione Grazie per la visione